Questo è un gospel che ci ha insegnato un nostro carissimo amico che si chiamava Herbie Goines. E noi lo facciamo sempre pensando a lui perché è pieno di energia, di rhythm blues come era lui. E noi lo facciamo sempre pensando a lui perché è pieno di energia. E noi lo facciamo sempre pensando a lui. 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 E noi lo facciamo sempre pensando a lui.